Guarda! Oh, che morbido, è nuovo! No, lavato con nuovo perlana, liquido. Liquido? Ma non è nuovo? Sì, a mano e lavatrice. Nuova, eh? No, lavata con nuovo perlana, liquido. A mano e in lavatrice? È proprio nuovo! Aspetta, aspetta! Che morbido, nuova! No, lavato con nuovo perlana, liquido, in lavatrice. In lavatrice? Ma se è liquido! È questa la novità! Da oggi per i capi più preziosi, nuovo perlana, liquido, a mano e in lavatrice. Passaparola!